Ci stupisce molto la collocazione di questa festa di Santo Stefano il giorno dopo del Natale, sempre una festa che ha gli antipoti della nascita del Verbo incarnato. In realtà la Madre Chiesa nella sua saggezza ci dice una cosa importante, passiamo dal Natale di Gesù al Dies Natalis di Stefano. Cos'è il Dies Natalis di Stefano? Manche di ciascuno di noi. Il Dies Natalis è la morte, solo Stefano cosa ci mostra? Che non è vero che siamo nati per subire la morte, lui la morte non la subisce, ma per lui la morte è un nascere alla vita vera, alla vita piena, alla vita eterna, alla vita senza fine. Ecco allora vediamo come noi siamo nati per non morire mai, noi siamo manati per la vita piena, per la vita eterna. Questo è il senso della festa di Santo Stefano proprio dopo il giorno del Natale, come quel bambino, quel Verbo incarnato è nato per darci la vita vera, in Santo Stefano si compie il messaggio straordinario del Natale. Siamo nati per vivere pienamente in Cristo. Buonamissima.